E' l'unica realtà a rappresentare l'isola in un campionato regionale. La squadra di volley della polisportiva Elba 97 milita da tre anni in serie C femminile grazie a un'entusiasmante doppia promozione ottenuta tra il 2011 e il 2013 partendo dalla prima divisione. La stagione in corso vede la formazione in piena lotta salvezza, il punto del dirigente Roberto Puccini. Quest'anno sta un po' faticando a trovare il bandolo della matassa, diciamo. Il campionato è molto equilibrato e siamo partiti facendo un po' qualche passo falso, però siamo fiduciosi che ci si possa riprendere. La classifica è molto corta e ancora i giochi sono tutti aperti. La polisportiva, che comprende anche una squadra di calcio a cinque maschile, lo scorso luglio ha eletto il nuovo presidente Rossano Anselmi. Ho trovato un ambiente molto sano, molto organizzato. Il mio compito è stato quello di provare a organizzare, riunire e prendere le forze da tutte e due per riuscire a fare delle cose un pochino più importanti, ponendo le forze.